L'Assemblea Generale dei Socii Delegati del Consorzio Agrario di Siena ha approvato con 8 voti favorevoli e uno contrario il bilancio d'esercizio 2019 che registra una perdita di 2,1 milioni di euro. Il servizio di Andrea Mari. L'Assemblea Generale dei Socii Delegati del Consorzio Agrario di Siena ha approvato con 8 voti favorevoli ed uno contrario il bilancio d'esercizio 2019 che registra una perdita di 2,1 milioni di euro, perdita che nel 2018 fu di 4,1 milioni di euro. L'Assemblea si è tenuta oggi, martedì 30 giugno, nella sede di Via Pianigiani. Nel conto consuntivo in decremento anche l'indebitamento bancario netto calato di circa 5 milioni a 3,8 milioni di euro. Grazie ad un incremento di fatturato pari a 6,4 milioni di euro, ad introiti da un milione di euro derivanti da vendite immobiliari e al taglio dei costi, spiega Alessandro Cinughi De Pazzi, presidente del Consorzio Agrario di Siena, siamo riusciti pressoché a dimezzare la perdita del bilancio e a diminuire l'indebitamento netto con le banche. Un risultato che però non deve lusingarci, ma spronarci a tenere la barra dritta in quel percorso di risanamento che abbiamo avviato nell'interesse di tutti gli agricoltori. Le difficoltà ci sono e sono indubbie, ma proprio per questo dobbiamo mantenere oggi più che mai unità e condivisione. Faccio appello, conclude Cinughi De Pazzi, alla responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel gestire una situazione delicata e nel lavorare remando nella medesima direzione. Nei giorni scorsi era stata l'amministrazione comunale a porre l'attenzione sul futuro del Consorzio Agrario. Le vicende del Consorzio, venute alla luce attraverso la stampa, si legge in una nota del Comune, hanno suscitato una profonda preoccupazione per il futuro di un'azienda storica e strategica per la nostra città, che negli ultimi anni ha invertito la curva virtuosa di un incremento del patrimonio e che ha visto diminuire considerevolmente i volumi del proprio bilancio. Il pensiero va ai lavoratori e alla solidità del loro posto, un tema ancora assente nel dibattito. Preoccupazioni espresse nelle settimane scorse anche da Coldiretti, che tramite il presidente toscano Fabrizio Filippi aveva attaccato la governance. Per far fronte all'indebitamento con il nuovo piano industriale potrebbe arrivare un piano di dismissione del patrimonio immobiliare strategico dell'ente e se questo accadrà non vogliamo essere corresponsabili di un percorso che non riteniamo in linea con lo sviluppo delle nostre aziende.